Mi sembra la stessa frase, i corsi hanno chiesto aiuto ai sardi e i sardi allora sono corsi, questo mi ripeto. Seduta sulle mie isole preferite sorride da oriente a occidente. Mi sussurra di quando fece impazzire d'amore un pompiere napoletano che provava a spegnere il suo Vesuvio cantando fiamme, 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 ya, fumiculi, fumicula, questo fuoco se ne ha d'andà. Oh Wendy, mi hai adorato talmente che ho avuto il dubbio che stessi recitando. Infatti ho telefonato in tutti gli atti del mondo, non c'eri, sono molto più tranquillo adesso, questo è il succo e io me lo bevo. Grazie.